Musica Lutto a Casalvelino, ieri in un incidente stradale è morto un bambino di 4 anni. Centro vaccinazioni, questa mattina l'assemblea dei sindaci del distretto sanitario Sant'Arsenio, nuovo punto per le vaccinazioni. Montesano sulla Marcellana, il vice sindaco radesca si dimette dalla carica. Covid, chiuso l'istituto comprensivo di Sassano, domani si torna in classe ad Auletta e Sant'Arsenio. Padula si arricchisce lo scaffale dell'associazione Michele Sarli nella biblioteca romano. La famiglia Gallo dona il libro del compianto Marco. Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca. Una tragedia si è consumata ieri a Casalvelino, lungo la strada provinciale 274. Un incidente stradale ha provocato la morte di un bambino di 4 anni. Immenso dolore per la comunità di Casalvelino. Ieri una tragedia si è consumata intorno alle 13.30, lungo la strada provinciale 274, tra le località Verduzio e Cereta Padule. L'incidente stradale ha provocato la morte del piccolo di 4 anni che viaggiava a bordo di un'auto, dove c'era anche la madre e la sorella maggiore. L'auto è finita fuoristrada, finendo in un canale di scolo, al lato della strada, sbalzando fuori dal finestrino il piccolo di 4 anni che purtroppo per il forte impatto è deceduto sul colpo. Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato il sinistro stradale, ma molto probabilmente il manto stradale reso viscito dalla pioggia avrà fatto sbandare l'auto. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Sono state trasportate in ospedale la mamma e la bimba, ma fortunatamente le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. La bimba è stata trasportata all'ospedale Santo Bono di Napoli solo in via precauzionale. Una notizia che lascia sconvolta l'intera comunità di Casalvelino, dove la famiglia del piccolo bimbo è molto conosciuta. I funerali si terranno nella giornata di oggi. Un secondo punto vaccinazioni nel Vallo di Diano è stato questo il tema al centro della discussione di questa mattina nell'ambito del Comitato dei Sindaci dell'ASL di Salerno, svoltosi presso il Polo Cappuccini a Sala Consilina. Questa mattina si è tornato a parlare di centro vaccini supplementari nel Vallo di Diano, nell'ambito dell'Assemblea del Comitato dei Sindaci del Distritto Sanitario 72. Come già annunciato alcuni giorni fa, il presidente dell'ente Francesco Cavallone si è immediatamente attivato per procedere nella discussione legata al potenziamento della campagna vaccinazione, attraverso anche l'individuazione di ulteriori punti dove poter somministrare le dosi in modo da raggiungere il maggior numero di utenti in tempo ridotto. Questa mattina, presso la Sala Convegni del Polo Culturale Cappuccini a Sala Consilina, dove si è tenuto l'incontro, erano presenti, oltre al presidente dell'ente Cavallone, anche il direttore del distretto sanitario 72 Sala Consilina Polla, il dottor Claudio Mondelli, il direttore dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dottor Luigi Mandia, e la dottoressa Rosa D'Alvano, responsabili dell'unità operativa di prevenzione e protezione dell'Aslo di Salerno. Nel corso del dibattito, come spiegato anche dal direttore del distretto, è emersa una propensione ad istituire un nuovo punto vaccini presso la struttura ospedaliera di Sant'Arsenio, anche se non mancano le criticità per poter provvedere all'attivazione del nuovo centro. La struttura di Sant'Arsenio pare sia preferita perché ritenuta in posizione strategica, ma secondo quanto emerso è necessario liberare i locali al momento utilizzati come deposito di documenti sanitari e cartelle cliniche. Un'idea su cui Mandia, pur manifestando l'apertura allo spostamento dei documenti, ha però evidenziato dubbi sulle difficoltà di reperire altre sedi per i punti vaccinali in un territorio vasto come il Vallo di Diano. Difficoltà che peraltro non emergerebbero, vista la disponibilità di numerosi sindaci e amministrazioni comunali a mettere a disposizione locali per la realizzazione dei punti vaccino. Proposte arrivate ad esempio da Atena, Lucana e da Sansa, su cui però bisognerebbe effettuare dei sopralluoghi. Un punto di accordo pare però emergere sul reclutamento del personale sanitario specializzato. Ogni centro infatti deve poter contare su personale altamente specializzato nelle diverse mansioni di riferimento che sono medici, farmacisti, anestesisti, rianimatori ed infermieri. Seppur non mancano medici e farmacisti volontari, pare che le difficoltà si presentino anche perché il reclutamento può avvenire solo tramite l'unità di crisi della regione Campania. Al momento quindi unica certezza sembra la conferma del South di Teggiano come secondo punto vaccini del Vallo di Diano, per il resto, come denunciato anche dal sindaco di Sassano nel corso dell'incontro, nulla è cambiato rispetto alla riunione precedente. La campagna vaccinale ha già riguardato gli operatori sanitari del RSA, ma ancora troppi contagi si registrano nelle case di riposo. Per arginare al meglio il virus, Fisce e Anfas Campania lanciano l'appello a febbraio vacciniamo anche i disabili. Grande soddisfazione da parte di Fisce Campania e Anfas Campania per la decisione della regione di aver incluso nella prima fase del piano vaccinale gli operatori sanitari che prestano la loro opera nei servizi residenziali e semiresidenziali assistendo le persone con fragilità, quali anziani, disabili e non autosufficienti. Eppure le RSA continuano a registrare nuovi contagi tra gli ospiti, nonostante la puntuale applicazione delle misure di prevenzione, come l'utilizzo corretto dei dispositivi di prevenzione individuale, la clausura ed il divieto di visita familiare. Secondo quanto dichiarato giorni fa dal commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Domenico Arcuri e dal ministro della salute Roberto Speranza, le persone con disabilità avrebbero dovuto essere inserite tra le categorie con diritto di prelazione al vaccino nel mese di febbraio. Operando in questo modo, si sarebbe arginato ulteriormente il virus nelle case di riposo. In Campania però, almeno per ora, è previsto che solo gli ultraottantenni verranno vaccinati in questo mese. Per tale motivo, Fish Campania e Anfas Campania segnalano l'importante necessità di provvedere quanto prima, anche predisponendo risorse professionali proprie, alla vaccinazione delle persone con disabilità su tutto il territorio, affinché le famiglie e le RSA riescano a superare al meglio queste settimane. L'accorato appello è rivolto in primis al governatore della nostra regione, Vincenzo De Luca, con l'auspicio che tale richiesta possa trovare concretezza già nel mese di febbraio. A Montesano sulla Marcellana si è dimesso dalla carica di vicesindaco e assessore Francesco Radesca, per malumori e divergenze, dice, all'interno del gruppo di maggioranza. Le cause della rottura sono tutte riconducibili al consigliere Radesca, commenta il sindaco Giuseppe Rinaldi. Il vicesindaco di Montesano sulla Marcellana, Francesco Radesca, si dimette dalla carica anche di assessore. Informa la cittadinanza con una lettera aperta in cui spiega le sue motivazioni e conferma il suo impegno da consigliere semplice fino a fine mandato. Montesano sulla Marcellana è uno dei quattro comuni del comprensorio, insieme con Montesan Giacomo, Padula e Teggiano, chiamati al voto la prossima primavera. Ho ritenuto opportuno di mettermi, spiega Radesca, che fu il primo degli eletti nel 2016, perché nel corso dell'ultimo anno sono aumentati malumori e le divergenze all'interno del gruppo di maggioranza. Nel mese di settembre, con una missiva firma del sindaco, mi è stata revocata la delega ai rapporti con gli enti sovraccomunali e mi si invitava a non prendere più parte agli incontri del gruppo di maggioranza. Ciò è avvenuto senza alcuna motivazione politica o amministrativa, ma semplicemente a seguito di una presa di posizione egocentrica e rancorosa che ha reso quindi impossibile la mia permanenza in giunta. Il rapporto con l'intera squadra di maggioranza era logoro da tempo, spiega il sindaco Giuseppe Rinaldi. Già a settembre la questione era stata affrontata e chiarita dal punto di vista politico. Le cause della rottura sono tutte riconducibili a Radesca e sono di natura squisitamente politica e amministrativa. I fatti, le azioni, le iniziative di questi anni di lavoro prevalentemente individuali da parte del consigliere Radesca hanno mostrato due modi completamente diversi di fare politica. Non sussistevano nemmeno le minime condizioni di fiducia per continuare in quanto le divisioni con tutto il gruppo, conclude Rinaldi, si sono generate su temi e soprattutto valori che per Nuova Montesano sono e restano inderogabili. Insegnante positiva al Covid chiude l'Istituto Comprensivo Falcone di Sassano. Ad Aulette Sant'Arsenio invece si torna in classe. Vediamo. Dopo il caso di una scuola elementare di Teggiano, chiusa per un paio di giorni per un contatto da Covid, poi risultato negativo, una nuova chiusura scolastica è stata disposta nel Vallo di Diano, questa volta a chiudere il plesso principale della scuola secondaria di primo grado, della scuola primaria e dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Statale Falcone di Sassano, ubicata nell'edificio di Via Croce. La chiusura è stata disposta con ordinanza firmata dal sindaco Domenico Rubino almeno fino al prossimo 10 febbraio. Il provvedimento, che prevede dunque la sospensione della didattica in presenza nell'Istituto Comprensivo di Sassano, si è reso necessario dopo che una docente è risultata positiva al coronavirus. Restano regolarmente aperte con didattica in presenza, fanno sapere dal comune le strutture scolastiche delle frazioni Silla e Cagliazzano. Ad Aulette invece rientro tra i banchi di scuola posticipato a domani, dal momento che nei giorni scorsi si è svolto uno screening sulla popolazione scolastica e si è in attesa dei risultati dei tamponi che dovrebbero arrivare nella giornata di oggi. Il sindaco Pietro Pessolano ha dunque firmato un'ordinanza di proroga della sospensione della didattica in presenza nei plessi scolastici di ogni ordine e grado fino a domani, mercoledì 3 febbraio, mentre nella giornata di ieri è stata eseguita la sanificazione della plesso degli elementari, medie e infanzia di Auletta. Rientro in classe domani anche per gli alunni di Sant'Arsenio, come disposto dall'ordinanza a firma del sindaco Donato Pica. Oggi è ancora in corso lo screening volontario dei bambini dell'Istituto Comprensivo ai fini della ripresa delle attività didattiche in presenza da domani. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Ed eccoci tornati in studio. A tutti i comuni con meno di mille abitanti arrivano 81 mila euro dal Ministero dell'Interno che assegna un contributo di 81 mila euro per il 2021 e dovranno essere utilizzati per la messa in sicurezza di edifici pubblici e efficientamento energetico. Vediamo i dettagli. Lo stesso importo per ognuno dei 1.968 comuni italiani con meno di mille abitanti, 81.300 euro dal Ministero dell'Interno. La legge numero 34 del 30 aprile 2019 prevede l'assegnazione ai piccoli comuni di contributi nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. 33 gli enti che ne hanno beneficiato in provincia di Salerno, tra questi Bello Sguardo, Cornetto Bonforte, Ispani, Ottati, Pertosa, Roscigno, Salvitelle. I comuni beneficiari sono tenuti ad iniziare i lavori entro il 15 maggio 2021, appena di decadenza e, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca Dati e delle pubbliche amministrazioni, è prevista la revoca del contributo in tutto e in parte con successivo decreto ministeriale. Una donazione dal grande valore emozionale ieri alla Biblioteca Romano di Padula per lo scaffale dell'Associazione Michele Sarli. Pierluigi Gallo dona un libro del compianto fratello Marco. Un libro prezioso per tanti motivi arricchisce da ieri la Biblioteca Raffaele Romano di Padula e precisamente lo scaffale dell'Associazione Michele Sarli. Pierluigi Gallo, a nome della famiglia tutta, ha donato all'Associazione, per riporlo nello scaffale, un volume scritto dal compianto fratello Marco Gallo, che ripercorre il cammino di Santiago di Compostela dal titolo Santiago Express. Un volumetto di inestimabile valore sia perché rende così immortale la figura di Marco, scomparso prematuramente lo scorso ottobre in Columbia, ed anche perché in maniera semplice trasferisce su carta le emozioni di un viaggio denso di suggestioni, emozioni, valori umani, natura, bellezza, amicizia e tanto altro ancora. La consegna del volume, da parte del fratello dell'autore Pierluigi, a nome anche della sorella Maria Carle e di tutta la famiglia del compianto Marco, ha riempito di gioia in particolare il presidente dell'Associazione, che ha ricevuto il dono, Americo Sarli, che attraverso le pagine di Santiago Express ha potuto rivivere l'esperienza del cammino che la scorsa estate ha vissuto e che gli è rimasta particolarmente nel cuore. «Si tratta di una donazione che mi ha fatto particolarmente piacere», dichiara il presidente, non solo per la sensibilità dimostrata dalla famiglia Gallo verso lo scaffale allestito dalla nostra associazione, ma anche perché il volume ripercorre un viaggio, un'esperienza vissuta anche da me. «Ho avuto modo di leggere il libro», spiega ancora Americo Sarli, «e l'ho fatto in due sere, rivedendomi in quei racconti scritti da Marco nel suo libro diario. Voglio ringraziare la famiglia per l'atto di generosità ed invito tutti a prenderlo in prestito per le grandi emozioni che suscita nella lettura». Si arricchisce così di un nuovo prestigioso volume lo scaffale dell'Associazione Michele Sarli presso la Biblioteca Padulese, donato dal Sodalizio nel 2018, con i fondi raccolti nell'ambito del Memorial dedicato al ricordo di Michele Sarli con la consegna anche di una sessantina di libri. Nel corso del tempo lo scaffale si arricchisce di nuovi volumi acquistati dall'Associazione oppure frutto di donazioni. come la donazione arrivata ieri ed effettuata direttamente presso la Biblioteca Romano alla presenza oltre che di Pierluigi Gallo, fratello dell'autore del libro e del presidente dell'Associazione Americo Sarli, anche dell'assessore alla cultura del Comune di Padula Filomena Chiappardo, del segretario dell'Associazione Luisa Vigna e di Ilaria Tardugno, coordinatrice del Forum dei Giovani di Padula che si è occupato della catalogazione. E' mancato solo un gol per mister Castori ieri sera nella gara contro la Regina. Una salernitana sofferente nel primo tempo ha poi preso campo provando a portare a casa i tre punti. Un rigore fallito ha opacizzato una prestazione che però per l'allenatore Castori è stata comunque soddisfacente. Nella conferenza stampa post-gara il mister ha analizzato la partita e anche il mercato effettuato dalla società su cui si dice certo che i nuovi innesti saranno utili al progetto. Ascoltiamolo. All'alta intensità, all'alta velocità è stata comunque una partita molto tirata, molto compattuta. Noi abbiamo cercato la vittoria fino alla fine, non è venuta anche perché c'è stato l'episodio del rigore sbagliato però siamo molto contenti della prestazione della squadra e l'episodio ci poteva girare a favore perché uno sbagliare a un calcio di rigore non è mai una cosa usuale e quindi così un po' di mare in bocca ce l'abbiamo però la squadra ha fatto una gran partita e questo soprattutto al secondo tempo si è ripresa dopo un inizio un po' difficile e vedo una prestazione positiva ai ragazzi dispiace non aver fatto il corso di calcio di rigore perché avrebbe cambiato la partita. Il mercato io sono soddisfatto come ho detto ieri perché comunque la squadra ha messo a posto alcuni ruoli che comunque erano stati c'erano state le defaianze e quindi sono soddisfatto insomma di quello che è stato fatto sul mercato è chiaro che adesso un po' di tempo ci vorrà per metterli in condizione per bene questi ragazzi sono arrivati però ripeto è mancata solo la vittoria per il resto io sono contento sono soddisfatto abbiamo ritrovato anche le nostre prerogative c'è un Gennaro Duttino che quando è entrato ha fatto ha fatto quello che lui ha quello che sa fare quindi ritroviamo un giocatore importante per noi che secondo me il momento è stato buttato alle spalle e adesso possiamo soltanto crescere e migliorare ancora portiamo Anderson nel suo ruolo naturale che è quello di attaccanti l'abbiamo schierato a centro campo perché avevamo come posso dire subito in avanti lui è giocatore di squilibrio in mezzo al campo adesso lo riporteremo sulla batteria degli attaccanti sono quattro attaccanti poi c'è sempre qualche opzione alternativa che nel momento di difficoltà può sempre darci una mano quindi più o meno siamo rimasti come eravamo oggi in andata lì davanti comunque sono scesi in campo hanno fatto una parizione anche se temporanea due mesi di più chi di meno però ci danno un po' un metro di valutazione hanno fatto bene tutte e due è chiaro che come ho detto prima il tempo va al loro favore perché col tempo acquisiranno una migliore condizione poi le partite ce ne sono tante adesso quindi useremo anche loro come come loro useranno le partite per appunto per entrare in condizione però ecco io ripeto hanno fatto secondo me hanno fatto una buona gara tutte e due hanno fatto bene e possono solo crescere col tempo di sicuro oggi è la prima partita uno è intermazzolo scorso che non gioca l'altro era da lo stesso luglio e agosto quindi chi è fermo ai sei mesi chi è da nove non ci si può aspettare che sia al 100% però piano piano arriveranno ci arriveranno ed è tutto per questa edizione vi ringrazio per essere stati con noi vi auguro buon pomeriggio grazie a tutti